In merito alla vicenda Tercop ci sono aggiornamenti? Sì, le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro per verificare un po' la situazione. Ho parlato con il commissario Pizzi e insieme abbiamo convenuto di fare una riunione per giovedì prossimo. La faremo anche per una questione di collaborazione e cortesia presso il Comune di Terra. Vediamo un attimo di sviscerare un problema che interessa una serie di lavoratori che tra l'altro hanno anche delle situazioni... Che tra l'altro si sentono abbandonati dalle istituzioni? Io non so se sono abbandonati dalle istituzioni. C'è un problema che riguarda un servizio. Investe ovviamente la vita delle persone perché il lavoro quando c'è sicuramente migliora la vita delle persone. C'è però una necessità anche di rispettare norme e procedure di legge da questo punto di vista. Naturalmente il commissario è la massima garanzia. Cercheremo in quella situazione, in quella riunione, di vedere come si possono conciliare queste due esigenze. Quello del rispetto ovviamente della legge e anche di dare una risposta ai lavoratori che hanno anche particolari bisogno. Cercherete di risolvere o sarà solo un incontro, tra virgolette, di cortesia? No, no. Lì noi le riunioni, gli incontri facciamo risolvere i problemi. Poi naturalmente bisogna vedere se ci sono le condizioni, quindi verificheremo anche qual è la posizione del Comune rispetto a queste esigenze che vengono manifestate dalla cooperativa.